Il nostro obiettivo è quello di eliminare la plastica in agricoltura, infatti abbiamo sviluppato come primo prodotto uno spray che sostituisce il telo pacciamante, il telo nero che viene utilizzato per esempio a coltivazione di fragole o altri prodotti. Questo spray è completamente biodegradabile ed è formato da scarti agricoli che consentono ovviamente di ottenere un prodotto che a fine vita, circa dopo 8 mesi o un anno, viene triturato stesso dal trattore all'interno del terreno per essere poi completamente utilizzato come anche un prodotto di sostanza organica utile per il terreno.